Quindi oggi parleremo del lavoro, in particolare dei metodi di lavorazione, di come si misura il lavoro attraverso la misurazione dei tempi e la costruzione del cosiddetto tempo uscito. L'attenzione al lavoro e alle metodologie di governo del lavoro nasce in realtà come voi avete visto quando abbiamo parlato di evoluzione dei sistemi produttivi, sostanzialmente con la rivoluzione industriale. Prima di allora il lavoro attigianale o quello semi-industriale non aveva necessità di particolari accorgimenti volti all'ottimizzazione e alla razionalizzazione del lavoro. Con l'avvento della produzione industriale, quindi con la fabbrica di portare, la fabbrica di Ford, la fabbrica T, questo signore, Taylor, teorizzando insieme a Smith il principio della divisione del lavoro, fece una serie di accorgimenti per significare in qualche modo che il lavoro deve essere organizzato. Se voi ricordate, ma ve lo ribadisco, una critica che fu fatta a Taylor fu proprio quella di rendere automa l'uomo. Cioè quello che Taylor fece in qualche modo sulla base della fabbrica degli spilli, il principio di divisione del lavoro teorizzato da Smith, secondo il quale è opportuno invece di far realizzare l'intera filiera a un singolo operario, dividere quelle operazioni per ogni singolo fabbricatore di spilli, quindi quelle diverse funzioni che noi abbiamo visto quando abbiamo teorizzato la fabbrica degli spilli su Smith, e allora invece proprio le porto in una realtà industriale. Il senso di dare spinta attenzione alle modalità di lavoro, ai tempi di lavoro, agli accorgimenti minimali, nei movimenti singoli, era generato, secondo Taylor, dal fatto che non esistisse una produzione industriale prima di allora. Gli operai, quelli che poi abbiamo, che fosse pluretare, provenivano da, al massimo dal latte giallo, ma soprattutto dalla terra, quindi non avevano conoscenze, metodiche, di cultura, di come si produceva e in che modo si produceva, quindi bisognava trasferire un modello bellissimo da seguire in maniera puntuale. Bene, questo modello prevedeva certo la divisione del lavoro, la specializzazione e la parcellizzazione, secondo quel famoso adagio che penso tutti voi conosciatevi, Taylor, secondo cui bisogna organizzarsi secondo one job, one man, one task. Vediamo di comprendere, quindi, lavoro, per noi che cosa significa. Per noi il lavoro è un insieme di attività elementari non composte per realizzare un'attività, un prodotto più complesso, un sistema più complesso, quindi un insieme di elementi che concorrono alla realizzazione di mal fatto. Per noi il lavoro, quindi, non è la singola operazione, è un qualche cosa di più articolato. Qualche cosa di più articolato che poi negli anni è evoluto ulteriormente verso quella che oggi chiamiamo ergonomia, nel senso che dopo gli anni 50, verso gli anni 60-70 non si si accontentava più di studiare il lavoro in fabbrica, ma bisognava comprendere anche l'interazione del lavoratore con la macchina. L'ergonomia è la scienza che studia l'interazione, come si dice oggi, tra uomo, macchina e ambiente in cui l'uomo insiste. Quindi non si parla più di lavoro in senso stritto tra uomo e macchina, si chiama interazione uomo-ambiente-macchina. Questo chiaramente per cercare di ottimizzare sempre le attività di efficienza produttiva. Quindi, la prima attività su cui noi dobbiamo concentrare la nostra attenzione è la job design, quindi come progettiamo il nostro lavoro. Per progettare opportunamente il nostro lavoro dobbiamo dividerlo in vari elementi. I fattori che costituiscono l'operazione e il lavoro sono micro-movimenti, sono elementi, sono movimenti, sono operazioni non per me scomponibili. Elementi sono composizioni di più micro-operazioni, quindi se la micro-operazione è afferrare, lasciare, raggiungere, più movimenti, quindi gli elementi sono trasportare, sollevare. Il compito, che invece viene definito task, è l'aggregazione di uno più elementi, fino ad arrivare a quello che definiamo il job, il lavoro, l'insieme di compiti assegnati allo stesso operatore. Questa è l'analisi di tipo breakdown, come abbiamo fatto quando scomponiamo in elementi non ulteriormente scomponibili la singola attività, ma la stessa cosa la dobbiamo fare sul lavoro. Quindi il nostro interesse è andare a indicare come funziona la singola operazione. Bene, diversa scienza si è cimentata su questi elementi, diverse attività in letteratura. Perché? Perché la creazione di un metodo di lavoro ti consente di eliminare o comunque ridurre tutte le operazioni che non aggiungono valore, tutte quelle perdite di valore insite all'interno delle operazioni, che possono essere lo spostamento tra una stazione o un'altra, che possono essere la ricerca di un determinato pensile, perché magari c'è confusione o situazione di lavoro. Quindi l'analisi del metodo di lavoro consente l'ottimizzazione del processo e chiaramente aumenta la capacità produttiva. Quindi, se questo è quello che dobbiamo fare, tre sono gli step che caratterizzeranno all'intervento di oggi. Il primo è quello di studiare i metodi e quindi creare e studiare le metodologie che eliminano tutti quei movimenti e quelle azioni che non producono valore. Il secondo è misurarlo. Non c'è possibilità di utilizzare se non si misura. Quindi misurare il lavoro e quindi i tempi di lavorazione del singolo operatore. E infine studiare il ciclo di lavorazione per eliminare dal ciclo di lavorazione tutte quelle che sono le inopportune presenze che generano ritardi o comunque inefficienze all'interno del ciclo di lavoro e della sua interesse. Questo è quello che caratterizza il processo che noi dovremmo andare a integrare. Quindi, partendo dal metodo, dobbiamo innanzitutto stabilire che lo studio dei metodi si concentra su questi obiettivi principali. Miglioramento del processo, ottimizzazione delle auto, semplificazione dei movimenti, riduzione scatti materiali di manodopera, miglioramento dell'ambiente di lavoro. Questo produce un duplice obiettivo. Da un lato, e qui vediamo anche la scienza con l'idea economia, decrementare la fatica del lavoratore. Quindi l'ambiente in cui il lavoratore si trova a interagire, migliorando il metodo, migliorando la nota dell'allocazione, si migliora automaticamente il lavoro del ciclo di operatore, ma, che è la cosa che interessa più all'azienda, aumenta la produttività riducendo i costi. Quindi un'analisi attenta di metodi di lavorazione comporta questo tipo di processo. Bene, in che cosa consiste l'analisi dei metodi di lavoro? Come si estende, come si attua? In realtà l'analisi dei metodi di lavorazione consente di fornire risposte e indaga queste domande. Chi fa cosa, dove, quando, perché e come. Analizzando questi processi, uno riesce a ottimizzare la configurazione finale del lavoro e quindi l'ottimizzazione del processo produttivo. Quello che si registra è che ci sono una serie di tempi che si suomano perché sono seriali, mentre sempre potrebbero essere parallelizzati. Tu, se non studi in maniera attenta questo processo, guardi semplicemente all'output finale, che poi era quello che, in qualche modo, le aziende di produzione di masca analizzavano, cioè guardare semplicemente a produrre, perché tanto tutto quello che producci è diventato assoluto. Ma non si è andato a reggire il sistema, nel senso che la domanda è diventata non corrispondente all'offerta, perché si è saturata la domanda, quindi si è andati in qualche modo a gestire il mercato in maniera diversa, nel senso che vi ricorderete, parlavamo delle automobili, piuttosto che delle filo di inferiori, delle televisioni, delle visore che erano prodotti di hater. Ma no, no, il mercato si satura, quindi l'offerta inizia a diventare maggiore della domanda, in quel caso devi puntare sulla qualità per utilizzare il processo produttivo. Quindi, oggi, l'attenzione che Federer costava a questa metodologia è grandemente maggiore. Grandemente maggiore perché si scelte, in qualche modo, dallo studio del tempo uscito e del metodo di trovare l'ottimo nel tempo di produzione finale, nel time to market, così come si chiama, nascondendo una serie di valori e di tempi che magari possono impicciare la volontà del principio di lavoro che stiamo studiando. Faccio un esempio che è riportato alla settimana linguistica, e poi vi darei la soluzione durante l'intervallo, quando si parla di operare volendo nascondere dei tempi morti. Quindi quello che ho già visto la soluzione, ma comunque il principio generale che muove l'analisi dei tempi e metodi è quello di trovare la soluzione ottimale, ricordate sempre la differenza della soluzione ottico ottimale, che consenta di massimizzare la capacità produttiva tenendo in considerazione tutti i constraints, tutti i vincoli del mio processo. L'esempio che da settimane di attività che normalmente faccio per spiegare questo concetto è il seguente, immaginiamo di avere quattro persone, una un pochino robustina, una meno robustina, una slim e un'altra molto magra che devono attroversare il ponte da punto A al punto B. Quindi le quattro persone si trovano qui, devono trasportare con sé una candela, perché è buio. Le regole del gioco sono le seguenti. Uno può portare la candela, quindi la candela deve essere sempre presente in una delle due sponde del ponte, si può camminare due alla volta e il tempo di percorrenza è quello della persona più lenta e i tempi di percorrenza sono le seguenti. Dieci unità di tempo per il robustino, cinque per quello più smizzo, due per lo slim e uno per il magrissimo. quindi immaginiamo che io devo trovare le combinazioni di valori tali da minimizzare il tempo totale di attraversamento, ovvero tutte e quattro persone che sono qui si devono trovare col candelotto in mano da quest'altra parte. Quanta è la percorrenza minima del processo? La prima soluzione che viene in mente in maggiori sia la seguente, parte 10 insieme a 1 e quindi il tempo di percorrenza B è 10, immaginate quello lato il robustino che è insieme a quello lato da un secondo, ritorna 1, via totale n c. Poi dopo di che parte 5 con 1, quindi il tempo di percorrenza è il maggiore 5, ritorna 1, quindi 6 e infine parte 2 con l'1 e quindi 2, tempo di percorrenza 2. Il totale è 6, 17, 2, 19. Il tempo di percorrenza ovviamente utilizzando tecniche di gestione dei tempi per metodi, soprattutto dei metodi, è grandamente inferiore a questo 19. Il problema di utilizzare le tecniche di nascondere tempi morti. Quindi che cosa devo fare io? Fare in modo di far partire le unità che assorbono maggior tempo, nascondendo quelle che ne assorbono sono leggermente minori, quindi io faccio la tiro 1 e 2. Quindi 1 e 2 vanno qui. Dopo di che faccio tornare il 1. Partono 10 e 5. In questo modo sto nascondendo dei tempi morti. 10 e 5 e torna il 2 che era rimasto da questa parte e poi parte 2. In questo modo avrete una riduzione significativa del 20% dei tempi di gestione della vostra commessa, che può essere un tornio, può essere un'azione di fresatura, operazioni che vedremo tra qualche istante per comprendere come si costruisce il tempo sciolo. Quindi questo è il ragionamento che noi stiamo cercando di fare e che vogliamo condurre per ottimizzare il processo collettivo. Bene, dicevamo che non possiamo ottimizzare se non misuriamo. Quindi il primo passaggio che dobbiamo fare è calcolo dei tempi. Bene, seguo una banalità ma non è sufficiente andare a misurare la singola operazione perché ci sono una serie di concause che concorrono alla determinazione di un tempo che deve essere confrontabile e standardizzabile che non sono propriamente banali. Quindi misurare semplicemente con un pronome per il tempo non è individuare una tecnica che consente di standardizzare il processo. Quindi abbiamo diverse metodologie per cercare di misurare i tempi che vi pongo qui di seguito. Allora, sono le seguenti. Il criterio dei tempi standard, il criterio del cronometaggio e poi il criterio dei tempi predeterminati. Questi sono i tre che studieremo, gli altri due non li faremo ma comunque sono il criterio del campionamento del lavoro e il criterio del livellamento. Quindi, come vedete, non è immediato il calcolo dei tempi di lavorazione. Il calcolo dei tempi di lavorazione viene effettuato attraverso processi di standardizzazione, cioè noi dobbiamo rendere confrontabili i tempi delle singole operazioni. Il criterio dei tempi standard è abbastanza semplice. Dal momento che il tempo richiesto per sforzo da determinata attività, che appunto si chiama tempo standard, ovvero il tempo richiesto da un operatore di media attività per eseguire un determinato lavoro secondo un metodo definito, che in realtà è tabellato. Quindi, seguendo il principio di divisione di lavoro proposto da Taylor, i coniugi libri, questi due signori qua, decisero che probabilmente, no probabilmente, studiarono, che qualsiasi operazione, qualsiasi gioco, qualsiasi task, qualsiasi operazione elementare, fosse composta da micromovimenti. E la composizione di questi micromovimenti potesse dare vita a un lavoratore della sua interezza. E loro decisero, studiandolo, che ci sono diciotto micromovimenti che compongono qualsiasi operazioni che tu possa fare. Chiaramente ognuno di questi micromovimenti ha una durata, ha una simbologia, quelli che loro chiamano ferbrings, che consente facilmente di poter operare su degli sheet di lavorazione, su dei fogli di lavorazione. Qui non so se si riesce a vedere, ma ci sono alcuni dei 18 movimenti elementari. Per esempio, cercare, come vedete il grafico, rappresenta un occhio con l'occhietto spostato verso sinistra, c'è un colore di riferimento, oppure trovare che c'è una lettera di riferimento, c'è l'occhio con la cubilla ferma al centro, o ancora, non so, trasporto a vuoto, la mano vuota disposta in questo modo, vedete il simbolo, con un colore, trasporto a carico invece la mano piena, e così via. Quindi ogni singola operazione che ne creiamo, ogni job, è la composizione di 18 elementi fondamentali, ognuno di questi con una determinata tempificazione. La sola di queste tempificazioni ci fornisce il tempo standard, ovvero il tempo che un operario meglio impiega per effettuare una determinata operazione, taglio di una corda, piuttosto che foratura di una lamiera. bene, tuttavia, questo metodo non sempre è facilmente applicabile, perché comporta, come vedremo poi quando studieremo anche il periodo di metodi come la MTI, comporta un impegno forte nella scomposizione delle singole attività di lavoro. Quindi, quello che viene normalmente operato è il cronometrato. Il cronometrato dice la stessa parola di utilizzare uno strumento del cronometro per misurare il tempo, ma anche in questo caso il processo non è così banale. Innanzitutto diciamo che lo strumento di misurazione, ovvero il cronometro, può essere centesimale o sessantesimale, quindi può essere in 60 secondi o in centesimi secondo. La conversione è abbastanza semplice tra l'uno e l'altro, ma potete utilizzare l'uno e l'altro secondo le operazioni della precisione che volete introdurre all'interno delle operazioni che state gestendo. Ovviamente, oltre allo strumento, prevede anche delle attività di un operatore cronotecnico che deve avere esperienza, qualità personale, sincerità, onestà, entusiasmo, oltre che capacità tecnica, inizia come una persona che si trova lì, non va per intenderci, cioè si trova un'onestà, una trasparenza nel giudicare il lavoro di un operatore, oltre che giudicare dopo che dico perché giudicare, o misurare l'operatore attraverso il cronometro. A parte i tool di funzionamento, la tavoletta, il foglio di osservazione, il cronometro, la tecna del cronometraggio si suddivide sia nell'operazione di misurazione vera e propria, sia nell'espressione di un giudizio, come vi dicevo, il cronometro, l'operatore per avere anche esperienza e utilità, un giudizio su come l'operatore sta agendo rispetto all'operazione che è stata assegnata, e ulteriore elemento di valutazione in questo tempo standardizzabile, un fattore di sforzo. Questo fattore di sforzo non dipende dall'operario, ma dipende dalla tipologia di lavorazione che stiamo affrontando. Se ci troviamo in un alto forno è evidente che il fattore di sforzo sarà molto più elevato rispetto a se ci troviamo a lavorare al computer per mandare delle mail o rispondere a delle mail. Ma lo vedremo in un secondo momento. Quindi, iniziamo col dire come funziona la tecnica del cronometro. Allora, abbiamo il cronometraggio attraverso il criterio diretto, dove praticamente si suddividono le operazioni in funzioni elementari. Si valuta, a parte il tempo macchina, e la durata degli elementi misurabili non deve essere inferiore a 5-10 centesimi. Quindi ogni operazione sulla quale andiamo a effettuare la nostra misurazione non deve essere inferiore a 5-10 centesimi, non deve essere superiore al minuto. E inoltre, elementi inutili, regolari, rispetto a quelli presenti nella nostra misurazione, vanno eliminati nella fase di analisi al minuto. Allora, se queste operazioni che andiamo a fare, immaginiamo che l'esempio che qui viene riportato è di centratura, l'operazione principale è la centratura, che si divide in ulteriori sottoperazioni, la breakdown che stiamo realizzando di tipo secondario, che è sfasciare il piano, la prima fascia, centrare la prima fascia, oppure le operazioni elementari, fino ad arrivare a un movimento microelemento, non ulteriormente scomponibile, che è il prendere il pezzo, collocarlo nell'altro centrante e realizzare operazioni elementari di questo tipo. La seconda operazione, una volta scomposto il processo e quindi rese misurabili le sigole grandezze che caratterizzano l'operazione, il task o il job della sua interezza, è individuare un giudizio di rendimento. Perché? Perché oltre al tempo un ulteriore valore della misurazione è il cuore di riflettere operazioni. Il giudizio di rendimento si fonda sull'analisi di un operario cosiddetto normale, tra virgolette, nel senso statistico, quindi nella norma, ovvero una persona onesta, evoluta ed addestrata, che lavora a paga fissa e dà una produzione giornaliera costante e accettabile, senza impegnare tutte le sue capacità e senza riportare eccessiva stentezza. Quindi un operario che lavora con onestà a paga fissa è arrestato. Questo giudizio di modalità di lavoro si chiama standard normale ed è un posto pari a 100. Il che significa che se abbiamo un operario che lavora al di sotto della normalità avremo giudizi inferiore a 100. Fino ad arrivare a giudizi di operai che invece non lavorano, per esempio a paga fissa, ma lavorano a cottimo, oppure così si può determinare lavoro a rendimento, e questi operai lavorano con un 33% di efficacia. Chiaramente se vorrei alla fine del 67, poi lo vedremo in un secondo momento, ma comunque l'operario quindi incentivato lavora di più, stranamente, rispetto a quello a paga fissa. Cioè l'operario normale invece lavora anche meno, per problemi personali, per tante ragioni che poi fanno parte di un altro processo della psicologia del lavoro che non ci riguarda, ma che comunque in qualche modo indiciano l'efficienza e l'efficacia del lavoro che sta realizzando e quindi il giudizio che non lo deve esprimere. Allora, se questo è sempre nell'ambito del criterio del cronometraggio quello che noi andiamo a elaborare come giudizio, dobbiamo sapere che possiamo attraverlo a un giudizio pari per esempio a 0,50, ovvero per lo scadente, molto inferioramente, fino ad arrivare a un giudizio pari a 1, ovvero normale, un giudizio 1,33, molto migliore del normale, fino a 1,67, molto superiore al normale, che significa che stiamo impegnando un operario che è molto più incentivato, per quanto più onestamente, ma che in qualche modo vuole dare di più, perché sa che in questo modo guadagna di più. Tuttavia, a prescindere dall'incentivo più o meno dell'operario, così come l'attenzione degli studenti in classe, così anche gli operari hanno delle curve, che non sono curve di attenzione, in questo caso sono curve di efficacia, che sono riassunte in questo diagramma di BART. Non so se si riesce a vedere, ma sostanzialmente, qui sono le 8 del mattino e qui sono le 17 di sera. Come vedete, BART, negli studi che ha compiuto, sostiene che c'è un incremento nella fase iniziale tra le 8 e le 10 per poi raggiungere un picco intorno alle 10, poi i livelli di efficienza ed efficacia del lavoro iniziano a decrementare, fino ad arrivare alla pausa. Dopo la pausa c'è un nuovo incremento tra le 13 e le 14, che comunque è sempre al di sotto della media del periodo mattiniero, fino a poi arrivare verso il 17 a un abbassamento di efficacia, che come vedete raggiunge un picco molto più basso della partenza delle ore 8. Noi dobbiamo tenere in considerazione il fatto che quando un'operata lavora subisce questo agoghe, questo andamento, e quindi il nostro giudizio non può essere agoghe, non può essere andamentale, non può essere ciclico. Il nostro giudizio è essere costante, quindi dobbiamo trovare espressioni forure che, attraverso un unico valore del tempo, consentono di rendere costante il valore e il giudizio, quindi il tempo cosiddetto normale, del singolo operario. Questo è il motivo per cui introduciamo questa espressione, secondo la quale il prodotto tra tempo e giudizio, T e B, inversamente evoluzionale l'uno con l'altro, è costante per T, inversamente evoluzionale. Perché all'amontare del tempo, certamente il giudizio sulla qualità del lavoro e sull'operato dell'operario, perdonate la letterazione, è certamente minore. Se il tempo è molto basso, il giudizio sarà molto elevato. Comunque noi immaginiamo che il prodotto tra T e B risulti costante, dove T è il tempo di esecuzione e B è il giudizio dell'efficienza del singolo operario. Allora, se questa espressione è per noi valida, per calcolarci il tempo normale in questa variabile qui, sarà sufficiente misurare T e B, rapportarlo a D con N, il giudizio normale che ricorderebbe il pariacento, e otteniamo il valore T con N. Quindi, ricordando che all'aumentare del tempo il giudizio decrementa, e quindi al diminuire del tempo il giudizio è più elevato, quello che noi andiamo a fare è calcolare il tempo normale. Come vi dicevo, non è una parola risurrezione, ma è determinato da questa forma. Quindi, se la velocità normale, quindi il giudizio normale, è pari a 100, e abbiamo che... Non faccio la lavagna così si comprenda meglio. T con R è il valore del tempo registrato, misurato, e V con R è il giudizio registrato. T con N e V con N, l'altro esempio, nel tempo normale è il giudizio normale. T con N sarà dato da T con R, che è il valore che misuriamo, che è un tempo, in questo caso sì, mediato. Quindi, lì è un valore che noi andiamo a mediare su 5 misurazioni e quindi diamo per 5. È una delle 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 mie proprie di spiegare altre. V con R è un giudizio che noi esprimiamo. V con N è pari a 100. Attraverso questa formula io riesco a determinare il tempo normale. E il tempo normale è quello che noi andiamo a trovare lì dentro, con alcune maggiorazioni. Due tipologie di maggiorazione sono i bisogni fisiologici e i tempi a sui reali. Sono due tempi che devo aggiungere al tempo normale per ottenere gli reali valori che andrò a introdurre in un secondo momento, in quello che chiameremo, da quale pausa successiva, tempo cito. Allora, come vado a determinare il valore normale fornito in questa relazione? Ci sono diversi metodi. Questo è uno di quelli che vi ho raccontato poc'anzi, ossia l'introduzione del valore meglio e quindi banalmente si effettuano più misurazioni, si divide per meno misurazioni e si introduce all'interno della forma. L'altro è il metodo della triangolazione. In che cosa consiste il metodo della triangolazione? Vengono rilevate una serie di operazioni, una serie di tempi, 25-30 volte. Dopodiché per ogni singolo valore viene rilevata la frequenza del cambiamento e per ogni singolo valore viene individuato il giudizio del cambiamento. Quindi noi immaginiamo che abbiamo un'operazione di tranciatura di una... Ricordo che facciamo questa analisi alla Stavra. La Stavra era un'azienda che stava a Stavra, che faceva diverse cose. Una delle cose più carine che faceva era l'iscatolamento di tonni. C'erano quattro linee di assemblaggio con tre operatori per ogni linea e praticamente c'era una di queste linee che stavamente aveva una efficienza produttiva di gran numero inferiore alle altre. Come funziona? Immaginate sempre grazie alle mie capacità di grande disegnatore. Allora, questo fosse il tonno. Come funziona il tonno? Il tonno è tipo il maiale, non si frutta nulla. Viene tagliato qui e qui, poi viene tagliato qui e poi queste sono le parti più pregiate che vengono tagliate in ulteriori diversi. Quindi l'operazione, allora, oggi la Stavra ha chiuso completamente a Stavra, ma allora viene effettuata in maniera automatizzata. Quindi c'era l'attività di scongelamento, il tonno scendeva da questo scivolo, arrivava alla postazione, il primo che prendeva il tonno, l'altro passava, e iniziava ad agganciarlo, effettuare annualmente questa operazione. Bene, che cosa è successo? Che abbiamo effettuato 25-30 libri, non ricordo oggi, ma mi pare anche più di 30, in cui siamo andati a giudicare, per ogni singolo operatore, la velocità di esecuzione, quindi V, siamo andati a giudicare il tempo che impiegava T. Questo ci forniva una tabella che più o meno poteva avere un andamento del genere, dove sono riportati i tempi di esecuzione che vanno dal più basso, che era 30, fino al più alto, che era 36 in unità di tempo, 36 secondi, con un tempo normale, quello più frequente, che era 33. A questi venivano associati poi i giudizi. È evidente che a un giudizio di 30 il giudizio è eccezionale, che è un tempo ottimo, quindi il giudizio 130-125, ricordate che 100 è il giudizio normale, fino ad arrivare a un tempo di 36, dove il giudizio è meno che normale, e quindi chiaramente al di sotto della norma è 80-90, ma soprattutto un giudizio più frequente, che come vedete è 105, assegnato rispetto al tempo che maggiormente era frequente, 33. Prima di andare avanti con questo, vi dico che cosa era successo, e quindi da quest'analisi che cosa abbiamo determinato. Oltre al tempo normale, che è fornito banalmente dalla relazione che vi ho prima trascritto, quindi T, B per T, trattato 100, T per B, T per T è lo stesso, sono i tempi registrati. Il tempo registrato in questo caso quant'è? Quindi il tempo che devo riportare è quello più frequente, quindi quant'è? 33. E il giudizio più frequente? 105. Quindi faccio 33 per 105 diviso 100, 33 per 105 diviso 100, e viene 34,65, il tempo mio normale che lo vado a introdurre all'interno della mia analisi, per me che ho confrontato diversi operatori. Ebbene, la faccio breve nel caso del pesciolino, quello che è avvenuto banalmente, attraverso quello studio di delegati, abbiamo visto anche le operazioni che abbiamo fatte, prima che ero studiato dentro, poi abbiamo compreso che in realtà era semplicemente un'operazione di come veniva gestito l'aggancio del tonno. Quindi c'era un'operatrice che nel momento in cui il tonno è un problema sul bancale, perdeva alcuni secondi, siamo andati 36, quindi se si tratta di due secondi stai perdendo una capacità produttiva significativa per sistemare il tonno in maniera tale che ero studiato come una vera decisoria, quindi senza seguire le istruzioni in generale di arrivare il tonno e fare i tagli, come vi ho detto. Bene, questa semplice operazione di ritardo aveva generato una lack, una carenza, un decremento della produttività di una singolarmente con un solo operatore. Quindi per dire, quanto è importante e come a volte non si dicono queste cose se non le da studiare. Quindi questo è il metodo cosiddetto della triangolazione perché vedete come si presenta, è uno dei metodi per la determinazione del tempo normale all'interno delle espressioni che a noi servono. L'altro metodo invece è quello della... questo non è della triangolazione, è l'ultimo metodo che noi andiamo a studiare è quello del capelare, dove praticamente che cosa andiamo a fare? Effettuiamo un certo numero di rilievi tali numero di rilievi va tra 5 e 10 a secondo se... quindi 10 rilievi se abbiamo cicli fino a 2 minuti 5 rilievi se abbiamo cicli oltre 2 minuti quindi andiamo a effettuare 5 o 10 rilievi al secondo del tempo del ciclo della singola operazione che stiamo facendo che potrebbe essere il taglio del tonnino dopodiché andiamo a calcolare la differenza in range tra il tempo massimo e il tempo minimo registrato all'interno del processo rapportiamo a t con n cioè il valore tempo medio che abbiamo rilevato nell'ambito di 5 o 10 cicli e otteniamo un valore r fratto t con m che ci riporta una tabella che è la seguente che non si vede per niente vediamo se riesce a zoomarla tu per farlo vedere in questa tabella che cosa è riportato? è riportato il valore di r sarebbe range fratto t con m questo valore ti dice quante altre misurazioni devi fare per ottenere il tempo io ritengo possa essere normalizzato possa essere buono idoneo per essere utilizzato nel mio tempo ciclo quindi se per esempio ho effettuato 10 cicli ce l'ho l'esempio sì ce l'ho l'esempio immaginiamo di considerare 10 valori di tempo rilevati 9, 7, 9, 10 11, 9, 8, 9, 10 si calcola la differenza tra il t max e il t minimo cioè 11 e 7 viene 4 e lo si rapporta alla media che non è nient'altro che la somma di tutti questi tempi ciclo diviso 10 che sono il numero di misurazioni ebbene il valore di questo rapporto è 0,44 entro nella tabella se vado a prendere 0,44 eccolo qua rispetto a numero tempi rilevati che è 10 e mi dice che sono 33 le rilevazioni che devo fare quindi in realtà devo aggiungere 23 misurazioni ulteriori le medio questo tempo e il tempo che utilizzerò per caratterizzare il tempo normale e infine l'ultima considerazione dobbiamo fare è il fatto che questo tempo lo ho determinato in questi tre modi noi abbiamo questi tre modi per determinare di cui non ricordiamo niente tipo un metodo perfetto 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 questi sono i tre tempi non sono sufficienti perché ho due difficoltà che ho annunciato precedentemente che devo tenere in considerazione ovvero il fattore di sforzo e bisogna il fattore di sforzo come vi dicevo non è una variabile che dipende dall'operario dipende dalla tipologia di lavoro che stiamo attuando quindi natura del movimento se sono azioni di sollevamento di crisi molto onerosi superiore ai 42 kg attenzione richiesta in precisione pericolosità dell'operazione o delle condizioni ambientali che dicevo prima dell'altro forno la presenza di situazioni molto molto rigide freddo o caldo in cui mi trovo ad operare ebbene questo fattore di sforzo può essere anche in questo caso calcolato in due bordi differenti metodo della percentuale diretta o metodo del punteggio quindi il fattore incrementale che deve andare a maggiorare con una maggiorazione del tempo normale il maggiorare quel tempo può essere determinato in tutto il mondo attraverso l'analisi diretta attraverso il mediodo del punteggio l'analisi diretta mostra nell'assegnare una percentuale secca rispetto alla specifica operazione che stiamo considerando quindi immaginiamo di avere una tabella di questo tipo in cui per esempio noi immaginiamo ci sono tabelle di questo tipo in cui per esempio sta scritto sollevare carichi di 32 kg dalla cintola alla spalla è un'operazione piuttosto nervosa la percentuale secca che mettiamo in maggiorazione è 30% oppure operazioni come possono essere spingere un carro a 4 ruote da 30 cm con un carico lodo di 680 kg maggiorazione del 20% quindi il primo metodo consta nell'introdurre una maggiorazione percentuale in funzione della singola operazione specifica che l'operario va a realizzare quindi ci sono questi valori di maggiorazione tabellati che si trovano in letteratura ampiamente condivisi da scientifici che vengono applicati su questi temi il secondo invece è quello della valutazione del coefficiente di sforzo mediante metodo del punteggio in questo caso invece cosa avviene si parte da un presupposto che la stanchizza lo sforzo prodotto all'operario si è influenzato da tre fattori fondamentali sforzo mentale sforzo fisico sforzo ambientale per ognuno di essi sono declinati quelle che possono essere le condizioni favorevoli e sfavorevoli all'interno dei tre cluster che abbiamo considerato ovvero mentale fisico e ambientale abbiamo creato cinque categorie chiaramente questa è una tabella ampiamente condivisa ma ce ne sono diverse la Westinghouse ne ha creato alcune ogni azienda rispetto alle loro specificità crea dei modelli di valutazione del fattore di sforzo in questo caso per esempio rispetto allo sforzo mentale immaginiamo di avere un piccolo o nessuno sforzo mentale perché l'operatore esegue ordine quindi il punteggio che assegniamo a un termine di sforzo di maggiorazione è zero mentre se abbiamo un'intensa attività di coordinamento mentale di movimenti di coordinamento di facoltà nervose e di processo assegniamo un punteggio punti numericamente variatamente la stessa operazione di queste cinque classi la facciamo anche per lo sforzo fisico partendo da un lavoro leggero che non richiede nessuno sforzo con zero passando da un lavoro leggero che richiede una continua posizione retta 5 fino ad arrivare a un continuamente occupato con un lavoro pesante che richiede uno sforzo fisico e del 30 e l'ultimo cluster quindi zero punti fino a 30 che è quello ambientale dove si parla di un ambiente luminoso areggiato pulito fino ad arrivare ad un ambiente continuamente esposto a estreme condizioni di saggio con minime pause in cui ci sono in cui si registra l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione virtuale quindi si passa da un valore 0 fino a un valore 40 che cosa facciamo individuiamo la singola operazione foratura in una raniera andiamo a valutare nell'ambito del sforzo mentale fisico e ambientale quali sono i punteggi che abbiamo ottenuto la somma di questi punteggi ci riporta in una tabella sinottica che è quella che vi riporto qui di seguito in cui si legge il punteggio trotale compreso all'interno di un range in funzione di questo punteggio ne otteniamo il coefficiente di sforzo quindi se per esempio abbiamo un punteggio compreso tra 11 e 15 la maggiorazione sarà del 9% prego questo punteggio è quello che ti ha ricordato della singola attività oppure nell'inizio nell'altra giornata fanno tutte cose attività con diverse condizioni allora in realtà il tempo che noi andiamo a misurare è arrivato un'ostante dopo diciamo parte dai micro movimenti quindi le operazioni non ulteriormente scolponibili fino al jobs il jobs è un'operazione che comunque si deve chiudere all'interno di un minuto un minuto e mezzo al massimo la composizione di questi 20 e mezzo ci dà le 8 ore di lavoro dell'operario quindi in realtà rispondo alla sua domanda no in quel caso stiamo considerando il singolo job che viene composto di n job che fanno la giornata quindi deve considerarli tutti lei in questo momento sta analizzando il fattore di sforzo per tutti è evidente che se tutto il job e quindi se tutto il ciclo di lavorazione delle 7 ore 45 delle 8 ore lavorative costa semplicemente la foratura quel tipo di maggiorazione sarà specifica solamente per queste due operazioni per quel tipo di operario quindi la ridondanza per esempio è riportato nell'operazione l'aliminazione delle operazioni tipo il casellante che dà gli spicci che è poco faticoso ma mentalmente impegna impegna perché stack e sorreggono perché impegna mentalmente un lavoro di coordinamento quindi di coordinare nullo ti dà una maggiorazione complessiva che tu vai a portare al tempo della singola operazione che tu stai registrando spero di aver risposto a questo qui si va poi a conteggi molto elevati che vanno tra 80 e 90 che arrivano addirittura a una maggiorazione del 29% ma tenete presente che ci possono essere casi stimoli che si ragioni anche maggiorazioni del 100% va bene quindi completato il ragionamento che adesso vi ho fatto sullo scorso l'ultimo tassello dell'introdurro all'interno del mio tempo di lavorazione è quello legato ai bisogni fisiologici come tutti voi sapete l'operario e noi hanno delle esigenze fisiologiche che vengono computate in un numero specifico mai superiore a una percentuale di alcuni altri tempi che va all'interno del ciclo di lavorazione quindi va anche all'interno del tempo che io devo misurare di tipo insieme a questi ci sono ulteriori maggiorazioni generali anche visti stacco della corrente interruzione della rivoluzione che chiaramente sono assolutamente indipendenti all'operatore ma che comunque concorrono a generare quel tempo adesso quindi quello che noi abbiamo fatto è una volta compreso che il metodo di lavorazione è essenziale per determinare quali sono le operazioni inutili che peggiorano la qualità del lavoro e anche l'efficacia del lavoro quindi la produttività intervengo sulla misurazione di questo lavoro e ho diverse metodologie da poter utilizzare la prima che abbiamo con il strutturale dei tempi standard sono tabellati perché i coni di diviso il lavoro in tante operazioni elementari la somma di queste operazioni elementari ci fornisce il tempo della singola operazione il secondo è invece quello del cronometrage in questo caso invece abbiamo la possibilità di andare a misurare il tempo ma sapendo che quel tempo non sarà il reale tempo che andremo a riportare all'interno della nostra votazione perché è influenzato dalla misura soggettiva e dal giudizio del come l'operaio sta operando perdonate una pronta riportazione perché? perché se un operario non è incentivato per quanto potete dire sia onesto e abile ha un tempo di lavorazione normale quindi un giudizio che noi abbiamo costruito al centro se invece incentivato ha un giudizio migliore il prodotto tra il tempo e il giudizio lo consideriamo costante e quella formula che vi ho riportato alla lavagna è quella che ci consente di determinare una volta di su un'a tempo t e b tipo r quali i tempi con la r si è posto a questo punto il come determinare il t e il b tenendo presente che il giudizio purtroppo affidato al cronometrino e il tempo invece può essere calcolato attraverso come ci ricordava la collega prima una misurazione mediata metodo della triangolazione piuttosto che un metodo di avvenire in cui andiamo in funzione delle misurazioni che dobbiamo compiere per il rapporto tra R e T qua M un numero successivo compressivo di misurazioni che immediati ci partiscono il tempo queste sono le caratterizzazioni che noi siamo andati a effettuare per introdurre questo benedetto tempo ricordando che tuttavia c'è un'ulteriore necessità generata dalla tipologia di lavoro che genera quindi l'introduzione di un fattore di sforzo questo fattore di sforzo può essere determinato in domenica il primo percentuale se è che in funzione di lavorazione e quindi anche in questo caso la bellota il secondo invece tenendo in considerazione gli sforzi fisici mentali e ambientali la chiosa di tutto questo va aggiunta in chiosa tutto questo va aggiunto all'ultimo tempo che dovete misurare che è quello relativo agli impensi e bisogni fisiologici questo è il detto questo tempo fin'altro l'ultimo l'ultima metodologia per il capo dei tempi che possiamo utilizzare è questa la metodologia nota come criterio dei tempi predeterminati in questo caso sono tre le tecniche che è note noi guarderemo solamente la prima la MTM Methods Time Assurement la BMT Basic Motion Time and la World Factor tecnica del fattore del lavoro riusciamo a centrare sull'MTM l'MTM è una metodologia molto utilizzata anche se per la prima volta più impiegata ormai nel lontano 1940-43 nella Westinghouse in maniera scientifica oggi è una delle metodologie quando si tratta di affrontare processi complessi di gestione dei tempi molto molto impiegati come abbiamo parlato della World Class Mind Act ricorderete nei modelli di gestione della manutenzione del fattore del biciclo eccetera una delle metodologie maggiormente applicate è certamente l'MTM Methods Time Assurement in che cosa non esiste questo metodo? come dice stesso l'introduzione del capitolo di quello che vi sto per raccontare è un criterio predeterminato perché in qualche modo l'MTM individua otto macrooperazioni elementari all'interno delle quali poter dividere i singoli i singoli i singoli i singoli i singoli task nella quale potete dalla loro composizione determinare i singoli i singoli i singoli task quindi un po' come i metodi elementari i microelementi dei coniugi 18 microelementi l'MTM guarda a un tempo precostituito che viene misurato su base TMU il metodo di misura cioè il time measurement unit che in realtà rappresenta un centesimo di ora e quindi in sostanza 0,036 secondi quindi standardizza i tempi considerando il time measurement unit come unità di misura e divide in otto operazioni elementari tutti i possibili movimenti che si compri in un determinato task in un determinato job quali sono questi movimenti elementari per esempio raggiungere reach viene indicato con una R e viene declinato in funzione della tipologia di azione che uno deve raggiungere per esempio reach A dove A significa raggiungere un oggetto in posizione fissa o un oggetto nell'altra mano nel quale è appoggiata l'altra mano che significa che un'operazione è piuttosto semplice quindi oltre a questa singola funzione raggiungere c'è la declinazione generata dalle distanze da percorrere se sono pochi centimetri o sono alcuni centimetri nonché sulla tipologia di attività come vi ho fatto l'esempio fino ad arrivare da RA a RD dove R di raggiungere un oggetto piuttosto piccolo e che richieda una presa a quanto accurata è chiaro che in questo caso i tempi di gestione aumentano e quindi come vedete nella tabella che riguarda solamente la funzione raggiungere l'articolazione dei tempi è di questo tipo qui ci sono una serie di maggiorazioni che poi bisogna introdurre in funzione della tipologia di attività oltre a raggiungere abbiamo muovere quindi raggiungere il move anche in questo caso come vedete sono presenti le distanze e una serie di coefficienti di maggiorazione che dipendono dai chili per esempio o da altri elementi che comunque vengono introdotti all'interno della tabella terza attività è ruotare e in questo caso si parla di angoli quindi in funzione dell'angolo di rotazione dei gradi piuttosto che se il tipo di oggetto da ruotare è piccolo o meglio o di grande dimensione e ancora a ferrare e anche in questo caso abbiamo una declinazione puntuale rispetto alle diverse tipologie di case e alle diverse descrizioni dell'oggetto dell'operazione oggetto dell'afferraggio posizionare rilasciare release come vedete in questo caso è un'operazione che deve essere immediata con scarso impiego di TNU nel caso di R1 come momento di apertura delle dita e regolo nel caso di abbandono di contatto questo movimento delle dita TNU 2 abbandono di contatto disaccoppiare disengage e in questo caso se l'accoppiamento è largo preciso o serrato cambiano le diverse tipologie e di combinazioni in funzione anche della facilità del maneggio o la difficoltà del maneggio dell'oggetto e anche il movimento con gli occhi cioè il fatto di distrarre lo svaldo l'oggetto su cui ci muoviamo e anche la distanza percorsa genera un ritardo nei tempi infine movimenti del corpo della gamba e del piede e anche in questo caso come vedete abbiamo in corrispondenza dei movimenti declinari all'interno della tabella dei diversi tempi TNU che vengono poi a loro volta infine sommati e generano il passo definitivo il gioco definitivo quindi il tempo definitivo questi sono i tre macro-riteri che abbiamo studiato isolazione standard cronometraggio e time minute emissione quest'ultima metodologia come vi dicevo è molto impiegata perché presenta una serie di vantaggi abbastanza spinti come l'eliminazione della soggettività per l'intervento del cronotecnico bene oltre al vantaggio di eliminare l'intervento della soggettività nella valutazione quindi del cronotecnico consente un'attenta analisi della metodologia di lavoro perché tu per poter scomporre il gioco il tasco il lavoro in elementi non ulteriormente scomporibili devi studiare attentamente e questo è un fatto positivo ma questo vantaggio lo perdi nella complessità del processo per quanto se in banale hai otto creazioni le diverse male e tesci un tempo T che rappresenta il tuo tempo di rotazione normale in realtà effettuare questa operazione comporta un impegno temporale piuttosto significativo quindi è applicabile e da applicare quando il valore aggiunto quindi la tipologia di produzione è commensurata allo scorso e la tipologia di produzione consente uno sforzo di questo tipo perché il vantaggio che tu ne ricali è direttamente produzione inoltre abbiamo problemi su definizione del ritmo assunto come riferimento per la creazione delle tabelle quindi anche in questo caso abbiamo la certicità sulla definizione di quello che è il risultato finale proveniente però i vantaggi sono notevolissimi la vera criticità dovete considerare gli impegni più profondi della determinazione nella scomposizione del vostro lavoro benissimo terminato l'analisi del tempo quindi abbiamo analizzato vi ricordate le tre fasi che dobbiamo fare abbiamo analizzato il metodo che serve a gestire elaborare individuare tutte le operazioni inutili che non aggiungono valore e che decrementano l'efficienza del processo abbiamo misurato questo lavoro e quindi abbiamo individuato come calcolare i tempi arrivando a terminazioni che in tempo normale comprese le maggiorazioni che abbiamo visto adesso dobbiamo vedere come questo scenario si cala sulla singola realtà produttiva quindi sul singolo prodotto quindi noi dobbiamo andare a costruire quello che si chiama ciclo di lavorazione il ciclo di lavorazione è l'insieme della sequenza di operazioni che vengono realizzate per realizzare un intero manufatto un intero prodotto semi prodotto semi assemblato insomma un qualche cosa che abbia un input entra in una macchina esce dalla macchina come prodotto finito o semifinito ebbene per poter analizzare il ciclo di lavorazione noi dobbiamo introdurre questi quattro tempi che vi riporto su di un diagramma Gantt Ricordate che il Gantt è un diagramma monodimensionale con una sola lastra dei tempi e quindi i tempi che dobbiamo introdurre i tempi che dobbiamo introdurre per calcolare il ciclo sono esattamente questi quattro quindi tempo di preparazione macchina questo viene definito anche tempo macchina ferma MF sono quei tempi che vengono utilizzati dall'operatore per iniziare a predisporre le operazioni non cariche del materiale della macchina immaginiamo che stiamo effettuando uno stampo quindi prendiamo una lamiera la prepariamo la predisponiamo la mettiamo sotto la macchina di stampato poi abbiamo il tempo macchina che la vera e propria operazione realizzata dalla macchina quindi nel caso dello stampaggio è meglio che sceglie su tutto effetto la foratura o la deformazione della lamiera e poi si causa mentre la macchina fa queste operazioni l'operario ha possibilità tuttavia di effettuare altre operazioni per esempio controllare il prodotto in uscita dello stampaggio a predisporre tutto quanto necessario per avviare la predisposizione della seconda lamiera sotto la macchina di stampaggio e quindi sono delle operazioni che l'operario fa mentre la macchina lavora e si chiama ML tempo macchina lavora questo ML più tgm rappresenta il livello di tgm rappresenta il tempo ciclo teorico quello che in teoria dovremmo avere un tempo finale per la produzione del mio manufatto in realtà in realtà dobbiamo aggiungere ulteriori elementi perché perché durante le ore di lavoro l'operario effettua anche altre operazioni per esempio di risistemazione e pulizia della postazione di lavoro sostituzione dell'utenza immaginate un trapano la miccia diciamo che si usura piuttosto che altre operazioni sostituzioni che si chiamano tempi ausiliari oltre tempi ausiliari abbiamo sempre da aggiungere un tempo che è funzione di altro come vedremo fra qualche istante e invece riguarda proprio l'operario stesso cioè dei bisogni fisiologici dell'operario stesso e quindi aggiungiamo anche dei BF bisogni fisiologici il tempo ciclo effettivo è la somma di questi quattro temi questo è il tempo ciclo che noi andremo a studiare nel corso della prossima lezione è il tempo è il tempo Grazie a tutti.